Potrebbe essere l'ex sindaco di Vallo Antonio Sansone a sfidare l'uscente Aloia. Potrebbe essere dunque una sfida tra due noti medici, ortopedico il primo, cardiologo il secondo. I due hanno condiviso un lungo percorso amministrativo. Aloia è stato infatti assessore nell'aggiunta Sansone per dieci anni. Ora i due potrebbero sfidarsi alle prossime elezioni comunali per conquistare la poltrona di primo cittadino. Contattato questa mattina, il dottore Sansone non ha smentito, ma neanche confermato le indiscrezioni. C'è, ha detto, ancora molto da lavorare. Il nome di Sansone è stato lanciato dalla pagina di Facebook degli attivisti ecoliardici vallesi letali per Vallo, ma era nell'aria comunque da tempo. Resta da vedere se sarà confermata. Ad un mese dalla presentazione delle liste, dunque, non c'è ancora un candidato ufficiale, espressione della coalizione che si appresta a fronteggiare l'amministrazione uscente. Negli ultimi giorni sono trapelate tante troppe indiscrezioni, ma nessuna certezza. Sembra essere stata accantonata per il momento l'ipotesi di candidare il cardiologo Dino Liguori, sostenuto dal PD di Valiante. Non dovrebbe scendere in campo neanche il capogruppo dell'opposizione, Emilio Romaniello, già cinque anni fa candidato contro Aloia. Sarebbero invece pronti a candidarsi a sindaco il consigliere di minoranza Nicola Botti e l'avvocato Marco Sansone, portavoce dell'Associazione 1821. Non avrebbe rinunciato alla candidatura a sindaco anche l'altro consigliere di minoranza Mario Fariello. Tanti aspiranti candidati. Alla fine la proposta di Sansone potrebbe mettere tutti d'accordo, ma non è ancora scritta la parola fine. C'è tempo ancora un altro mese per riflettere e cambiare le carte in gioco. Resta dunque da vedere se il PD rinuncerà ad un proprio candidato. Al momento sembra essere certa la sola candidatura, sindaco dell'ex assessore al bilancio Pietro Miraldi, che guiderà la lista del Movimento 5 Stelle.